Il fotobuffè è un servizio che offriamo sempre compreso all'interno dei nostri pacchetti. Durante la giornata scattiamo numerose immagini anche ai vostri invitati. Quelle più belle le selezioniamo e le stampiamo in formato 10-15 per poi esporle e lasciare che gli invitati possano prenderle e portarle via come ricordo della giornata.